Il GUP del Tribunale di Catanzaro, Alfredo Ferraro, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell'ex Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell'ex Assessore Consigliere Regionale del PD Nicola Damo, del Segretario del PSI Luigi Incarnato e altri imputati. Non luogo a procedere come chiesto dall'accusa per il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Il procedimento nasce dall'inchiesta della DDA di Catanzaro, Passepartout, su presunte irregolarità in alcuni appalti a Cosenza, tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza Rende, e per la realizzazione del nuovo ospedale. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, corruzione aggravata, ma anche traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture. Cade sempre per tutti, invece, il reato di associazione a delinquere. Il processo, che avrà inizio il prossimo 27 aprile 2021, davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro, è stato disposto anche per Luca Morrone, Luigi Giuseppe Zinno, Giuseppe Lofeudo, Pietro Ventura, Antonio Capristo, Giuseppe Trifirò, Santo Marazzita, Giulio Marchi, Armando Latini, Giovanni Forciniti e Fortunato Varone. Nel corso dell'udienza del 17 luglio scorso avevano ottenuto il rito abbreviato Pasquale Gidaro e Eugenia Montilla, dirigente regionale Arturo Veltri, Tito Berti, nulli. Per loro le udienze avranno inizio il prossimo 23 ottobre. Per tutti gli imputati, come aveva già chiesto il PM Graziella Viscomi, cade il reato di associazione a delinquere per il quale è stato deciso il non luogo a procedere.